Mi 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 mi... Ah zona! Ma sti cazzi ah! Ah! Ah 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 ah! Era dietro a quel sassone, però ce n'era un altro qui e... e... ok Sì, sì, guarda qui sotto, è tremendo Che giocatura Bucci si butta a destra o a sinistra? Maiala! Donna ragazzi, non credo io ho sparato! Ma che armato? Non vedo niente, è tutto bianco, ma che cazzo faccio? Eh, tutto! Maiala, quanti sono? Non li so, 3, 4... Porca merda! Mi sta allevando di casa! Sto perso, merda! Oh cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Ok! Ecco, ci ho detto! Uno su due, cazzo, soppieno, vedete? Un altro sopra! Un altro sopra! Anche io tra! Arrivo io! Arrivò! Stemmiamo il Piso su di giù! Uhhhh! Uhhhh! Ma quanti so qui dentro? Aspetta il barco! Aspetta il barco! Vai! Via, salva! Eh, niente, non ho fatto tempo! Ah, non c'è, non altro! Fimissioni! E ti è stato a corretti! O che cazzo sono? E' fuori dal... no ah 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 boom ah 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 non è possibile ora dietro di me ma ragazzi c'è ma un altro per la madonna la guardava da vicino ragazzi ma c'è che c'è usna porca maiala scappate mi fa un gioco vai giulino si ama preso meno uno boom preso occhio alle finestre via tienoli com sp preso non ho rotato che non posso adorare però io non mi ero vai un altro eee la dinamica se tu attacca ci stai oh andiamo non vedo rumore ma che cazzo fallo mio mio ma qui c'è un problema c'è un po' il terretto, da regolarmente, ok, vissi Grazie. Sì, dove sono? Che cazzo è quella età? Dì, c'è per la gente, lo so solo. L'ho preso, oddio l'ho preso. Brava. C'è anche gente di là? Morto. Sì, c'è gente a bestia. Non so se sono riuscito a pingar. Sì, sono riuscito a pingar. Ancora la gente nel solito angolo, tanto. Giù di sottra, ragazzi, il ponte. Sì, non va a entrare, mi parate il culo da là su. Eh, facile. Cioè, è pieno. Cioè, ai dirvi di voi, è pieno. Doppia. Quello l'ho preso. Ancora ce n'è l'unico in l'angolo, una monna. Non so, così. Non che se la nata. Vediamo essi. Non vedete. Che c'è la bestia. Sto perdendo eh No no da Che c'ho la persona? Ai E ancora di vana Ok Qui Sper Si C'è C'è Sì 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 An Sì Sì Grazie a tutti.